Sono quasi 2600 gli studenti ferraresi tra mercoledì e i prossimi giorni che affronteranno la maturità. Alcuni di loro sono già stati promossi in queste ore. La scuola è così tornata in presenza per gli esami di maturità. Dopo circa 100 giorni le scuole hanno così riaperto i battenti per accogliere i docenti che dalle 8 e 30 di mercoledì mattina stanno esaminando i maturandi anche a Ferrara. Da oggi gli edifici scolastici delle scuole superiori sono tornati dunque ad animarsi con i docenti maturandi. Per la prima volta anche quelli con insufficienze sono stati ammessi ugualmente all'esame. Una prova affrontata con soddisfazione dagli studenti. È andata abbastanza bene diciamo che la situazione non è delle migliori e quindi in un certo senso ci si accontenta tra virgolette di ciò che si riesce a fare anche se magari in una situazione differente avremmo potuto fare molto di più. È andata benissimo, grazie, è stata una bellissima esperienza e rivedere i professori è una gioia immensa e peccato che non ci sono i compagni ma rimedieremo. Ritrovare lì dopo tre mesi i propri professori è stato rassicurante ed è stato più un dialogo diciamo tra cioè tra studente e professore. In attesa che la politica stabilisca se il 14 settembre ricominceranno le lezioni nelle aule questa settimana è in corso la prima prova generale del ritorno in classe seppur con un esame di stato inedito e molto diverso dal passato visto che si svolgerà con le nuove regole dettate dall'emergenza sanitaria e soprattutto prevede il solo colloquio orale ma secondo gli studenti questa prova unica è stato un problema o no? È un pro e un contro, il contro è perché comunque con gli iscritti c'erano più possibilità possibilità di comunque migliorare la media finale, con l'orale avevi una sola possibilità. Forse avrei preferito una situazione normale perché comunque tre mesi con didattica a distanza non sono come tre mesi di scuola e quindi non si riescono a riparare molto questo vuoto che comunque abbiamo secondo me noi studenti. Ma come era strutturata la prova? Mi hanno chiesto cose che mi aspettavo e il presidente tranquillo ci hanno messo tutti a nostro agio insomma. Era molto strutturato quindi non sempre si è avuto il tempo di analizzare per bene le singole parti, però alla fine ci si faceva trasportare dei collegamenti fatti sul momento tra materia e altre materie.